Intanto bisogna tracciare l'itinerario per arrivare a questo punto conclusivo, perché in genere la manifestazione pubblica è un punto conclusivo di un'azione. Per arrivare a una manifestazione di questo tipo bisogna cercare di aggregare il più gente possibile. Intanto, quello che siamo qua, ci dobbiamo aggregare anche sulla carta, bisogna che ci sia concretizzare. Concretizzare e poi vedere con quale tipo di azione arrivare a questo. Io intanto, così per dire, avevo pensato di fissare alcune giornate di volantennaggio e di incontro con i genitori di fronte alle scuole e agli asili, perché questa è una cosa pure che tocca, no? E i figli, penso che è meglio di i figli, non c'è niente. E questo, che so, un giovedì al mercato con i social, però in queste cose io sempre sono convinto dei vecchi metodi, perché tu che la gente non ti incontri e mi parli, perché quando la gente vede qualcosa sul social, io non capisco niente che non sanno come succedono. Mi permette di parlare, scusatemi. Ti dici, sono d'accordo, mi affinevo già. Quindi, noi dobbiamo trovare i metodi per raggiungere la gente. Intanto la prima cosa è non scollegarci più a questo gruppo che siano, che siano osservatori già, diciamo, compiuti, che siano cose in embrione, che partono tutte da un livello. Poi ci possiamo organizzare a livello assembleare. Ma già facendo così, scusatemi, mi permette una parte, ho voluto dire anche il suo punto puntuale sulle cose che qui bruciano. E allora, se vuoi fare una cosa del genere, quando si mangia, comincia a farlo alle partite del sedere. Perché lì, guarda, c'è giovane, è pieno così. Come c'è la raro, per dire, scattare durante la partita, in polizia, non è un manifesto. Perché il punto è questo, noi stiamo parlando di manifestare, è sicuramente questi quattro dati. Bisogna trovare un modo di manifestare per coinvolgere tutti. Perché, secondo me, la ragione della signora, passi dentro, aspettano tutto, fanno l'artico. E' l'arte della parite qua, non dell'estero. Bisogna, secondo me, il punto è di trovare chiaro dove devi coinvolgere, perché se diciamo, facciamo l'investazione, finisce bene che siamo in maniera. Infatti, questo che stiamo parlando, c'è rega e daremo un po' più di noi a pancchetta magica, però tutti insieme possiamo parlare alla magia. Avete detto la stessa cosa. Lui diceva alle scuole che bisogna andare anche allo stadio. Io mi devo andare in chiesa così. In chiesa stamattina ho cercato di entrare tramite gente che frequenta la chiesa che ho fatto documenti da mettere in bacchetta. Basta stare fuori. Questo stesso prego, dovrebbe dire... Tanto è importante il Consiglio Comunale.